presentati a milano i palinsesti rai della prossima stagione protagonista su rai 2 mica sentiamo cristina battistin novità e conferme sui canali rai che vedremo nei prossimi mesi su rai 1 l'arrivo di fabio fazio con il suo programma che tempo che fa a domenica inna proda cristina paroli mentre la vita in diretta sarà condotta da marco liorni e francesca fialdini continuano i programmi culturali di alberto angela la rai primeggia in tutto negli ascolti della qualità nel necessario processo di trasformazione in media company credo che non ci siano tanti paesi forse nessuno in cui il servizio pubblico paesi europei internazionali in cui il servizio pubblico ha un ruolo così importante così grande e competa sul mercato in maniera così vincente a rai 2 ritornano pechino express con la terza edizione e nemo nessuno escluso a rai 3 informazione il ritorno di michele santoro nella prima serata di giovedì ma l'attesa è tutta per stasera casa mica dal 24 ottobre il cantante continua il viaggio in italia la scoperta del territorio c'è veramente questa voglia di tornare in italia di continuare a scoprire delle cose nuove e anche di mettermi alla prova la musica sempre protagonista grande rilancio del varietà italiano con ospiti internazionali ci sono anche degli artisti che faranno delle cose nuove anche un po fuori dalla normalità showman cantante intrattenitore mica tornerà a sfoggiare il suo talento e la sua versatilità